La commissione del Guinness dei primati l'ha ufficialmente proclamato l'uomo più vecchio del mondo. E il giapponese Sakari Momoi, 111 anni, che condivide il record con la donna più longeva, anche lei giapponese, Misao Okawa, 116 anni. Il Giappone è il paese con la più alta aspettativa di vita al mondo.